Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qui per assaggiare questi biscotti alla menta ricoperti dal cioccolato fondente. Il pacco è già aperto ma perché pensavo fossero due pacchetti separati all'interno. Come potete vedere ovviamente sono ricoperti di cioccolato come c'è scritto sulla confezione. Qui sempre per chi volesse ci sono le informazioni nutrizionali e gli ingredienti. E adesso assaggiamo. Molto buoni, molto cioccolatosi, si sente anche tantissimo il sapore della menta, nonostante ce ne sia poca, voi avrete già fatto lo zap dell'interno. Ecco qui vedete come si presenta all'interno, vedete che è praticamente tutto cioccolato, la menta è quasi nulla. Buonissimi, rifinirò sicuramente, probabilmente li ricomprerò pure. Se li trovate, non lo so se si trova in Italia, ma se li trovate, provateli. Anche per oggi è tutto, in descrizione vi ricordo che ci sono i link ai vari social, in particolare Facebook e Instagram sono quelli che uso di più. Se il video vi è piaciuto mettete un like, commentate e condividete il video e iscrivetevi al canale per sostenermi. Ciao! Grazie!